La tradizione della corona dell'Avvento ha origini molto antiche e dal nord Europa, nel corso dei secoli, si è diffusa in tutto il mondo cristiano. I rami sempreverdi che vedete simboleggiano la speranza e la vita eterna. La terza domenica di Avvento è detta anche Gaudete, Gioite. L'austerità dell'Avvento viene infatti mitigata dalla gioia del Natale ormai vicino. La terza candela è quindi quella della gioia, è la candela dei pastori, i primi che videro e adorarono il Messia nella povera grotta di Betlemme, i primi che poterono esprimere tutta la loro gioia per la venuta del Salvatore. Nell'accendere la candela dei pastori ricordiamo che Gesù non solo è vissuto duemila anni fa, ma continua a vivere ancora oggi e se sapremo accoglierlo con amore nel nostro cuore faremo esperienza di vera gioia. Chiediamo pertanto a Sant'Antonio di aiutarci a vivere nella gioia dando testimonianza della nostra fede con le parole e con le opere. Amen.